Eccoci qui cari amici, mattinato un po' impegnativo, voi diciamo che siamo partiti balli con il sole adesso pare che ci stiamo invadendo un po' di nuvole, quindi bene, come promessa e come di consueto ogni premium live event per view della WWE, parliamo al caso di oggi specifico di WWE premium live event per view Elimination Chamber 2022, prima edizione in Arabia Saudita e dodicesima annuale proprio dell'omonimo paper view, ovviamente, brands di Raw e SmackDown, sabato 19 febbraio 2022 allo stadio di Iedda Arabia Saudita Superdome, credo, un nuovo stadio costruito recentemente, se mi sbaglio qui non so se è lo stesso stadio della Supercoppa Spagnola di Calcio, non lo so di preciso comunque dall'immagine di video copertina vedete il pezzo forte, più o meno possiamo dire del paper view, ovvero la sfida per il dito da Dabrino, la gabbia d'acciaio dove dovrà difendere al massimo a loro Bobby Leslie contro la bestia, The Beast Incarnate, Brock Lesnar, contro Seth Freaking Rawlings, Austin Theory, Matt Riddle ed AJ Styles, si dice in giro che le quotazioni vanno moltissimo a favore della bestia Brock Lesnar e si dice anche i rumors, le voci di una possibile le sfida Champion vs Champion, avreste il migna tra Roma-Renz e Brock Lesnar, staremo a vedere comunque per me, o rimane campione Bobby, o diventa Lesnar, insomma non c'è problema prima di passare alla sfida tra Becky Lynch e Lita, che cosa vogliamo dire di questo primo Elimination Chamber dell'Arabia Saudita che è proprio in città, in Ayedda, in Arabia Saudita primo cartellone tutto al femminile con appunto le immagini di Becky Lynch e Lita della presentazione della sfida che è una sfida sicuramente di cartello, però per quanto riguarda il pronostico ovviamente penso che le quotazioni di Lita sono non basse, però diciamo che i favori del pronostico sono dalla parte di Becky Lynch e ovvio che entrambi le performer dovranno fare appunto una contesa degna di nota, sfida ricordiamo appunto Valida per il titolo femminile di Roe Detenuto appunto da Becky Lynch e la moglie nella vita reale di Seth Rollins Lusos, Jay and Jimmy contro i Viking Raiders, Eric and Ivar per i titoli di coppia di SmackDown quello che si pensa che sarà un match che se la può giocare come pre-show insieme poi ad una sfida che è annunciata nella notte passata in ultima puntata di Roe di Remistirio contro Demizio Remistirio assistito da Dominic e Demizio assistito dalla moglie nella vita reale Marise dicevo quindi sfida questa da Lusos e quella di Re contro Demizio che se la giocano come possibile pre-show ma diciamo forse pensandoci bene potremmo dire che come pre-show potrebbe essere proprio lusos con i Viking Raiders, comunque è chiaro che gli usos arriveranno a Brestelmenia con le cinture attorno alla vita e quindi non c'è di che, Roma Reins con l'assistenza di un poleman che ricordiamo la Royal Rumble ha tradito Brock Lesnar per ritornare tra le veci di Roma Reins contro Goldberg per il titolo universale, Goldberg si dice che è molto voluto e apprezzato in quel di Arabia Saudita ed è per questo che in un caso molto certo di fresco rinnovo di Goldberg con la federazione di Vince McMahon Domain potrebbe presenziare spesso e volentieri in Arabia Saudita comunque Romain sicuramente rimarrà il campione Drew McIntyre contro Medica con l'assistenza di Happy Corbin o se vogliamo chiamare Barron o King ormai ex King Corbin false count anywhere match senza squalifica che dire che Drew McIntyre una sfida che almeno si dice in corso d'opera per elevare ancora di pulso status che dovrebbe portarlo magari dopo Brestelmenia ad affrontare Roman Reins bisogna vedere se per il titolo universale o con la vittoria è certo Andrea Scuola mentre Drew McIntyre per l'elimination chamber match femminile per un'opportunità per il titolo di Roe a Brestelmenia prima elimination chamber match femminile della storia in Arabia Saudita le contendenti sono Liv Morgan, Rhea Ripley, Bianca Belair, Dudrock, Nicky Esch, Alexa Bliss Alexa Bliss che finalmente tornerà a combattere dopo non si sa nemmeno cioè sto scherzando e comunque dopo tanto tempo e che dire che i favori del prossimo qui sono per Bianca Belair vedremo se saranno confermati le votazioni a suo favore e poi tag dimmo favore l'orso tra Rodi, Ronda, Rosi e Naobi contro Charlotte Flair e Sonia Deville qui ovviamente che a altre prestazioni si andrà a vedere come sarà portata avanti la contendership feud ovvero la rivalità di contendership tra Rodi, Ronda, Rosi e Charlotte Flair e i due si affronteranno in gol di Brestelmenia è l'ultimo match ufficializzato si pensa che però alla fine siano questi qui, questi otto match Remistire con l'assistenza di Dominic e Demis con l'assistenza di Maris io dico Remistire anche se chissà potrebbe vincere Demis ma io appunto sono più contento se vincere Remistire volevo chiudere il video dicendo che notizia bomba della giornata di oggi o meglio della nottata tra ieri e oggi è quella che rumors dicono e vorrebbero uno Stone Cold Steve Austin protagonista Brestelmenia 38 che si svolgerà nella sua città natale a Dallas in un incontro si dice contro Kevin Owens anche se io sono un po' perplesso di questa cosa perché è vero che per quanto riguarda gli infortuni la scienza ha progredito comunque staremo a vedere io comunque penso che quest'anno Brestelmenia ci regalerà tante tantissime emozioni però abbiamo di già sicure appunto Ronda Rousey contro Charlotte Flair per il titolo di SmackDown poi abbiamo Brock Lesnar contro Roman Reigns da vedere però se sarà solo con un titolo in palio o sarà un winner take call tra Universal e WWE title e poi ovviamente dopo la giornata di sabato che se non mi sbaglio partirà tutto dalle ore 17 con il pre-show e dalle 18 con lo show principale e poi ovviamente la WWE ha visto il proprio canale giornata top con The Bump chi più ne ha più ne metta noi quindi siamo sempre qui sui soliti canali youtube io sono sempre qui con i soliti canali youtube, facebook, instagram Nicola da Lucia su youtube, facebook la paginetta deluxe corsaro facebook, pronostici instagram Nicola da Lucia 1994 quindi che dire ora di pranzo io vado a mangiare noi ci vediamo alla prossima saluto a tutte ciao ciao